amaro montenegro sapore vero per un veterinario la giornata non è mai finita ma è il mio lavoro e l'ho scelto io arrivare appena in tempo da un puro sangue queste sono le mie soddisfazioni questa gente questi profumi cose uniche come l'amaro montenegro amaro montenegro ha un sapore un sapore che non ti sbagli lo riconosci subito amaro montenegro sapore vero